Musica Non ho mai vinto nulla in tutta la mia vita. Davvero, non ho mai vinto niente, vi posso assicurare che l'espressione è letterale. Probabilmente a molti di voi le cose saranno andate in modo differente, ma ecco io non ho mai vinto una lotteria, una pesca di beneficenza, un concorso alla radio, neppure una staffetta alle scuole elementari e anche le mie cartelle della tombola di fine anno sono sempre le più sfortunate. Poi un bel giorno, ecco, i giornali se ne uscivano con questa notizia qui. Il forlivese Marco Cortesi che si arriva è il campione del mondo di blogging. Ora, probabilmente molti di voi si staranno chiedendo che diavolo sia il blogging. Bene, si tratta di quello che i media definiscono come l'ecosport più in voga del mondo. In sostanza nel blogging si corre, ok? E mentre si corre si fa una cosa molto strana, si raccolgono i rifiuti abbandonati che si trovano a lato della strada. Vince, vince chi corre più a lungo e quindi raccoglie più immondizia. Pensate, avevo cominciato a fare blogging senza sapere neppure che avesse un nome, semplicemente perché ero stanco di vedere l'inciviltà di tanti concittadini imbrattare il bellissimo quartiere di campagna nel quale vivo. Tre anni più tardi partecipavo, quasi per gioco, alla prima vera olimpiade di blogging, arrivando primo nella mia categoria. E non fu difficile, signore e signori, dato che a correre eravamo solo in due. Scherzi a parte, c'erano atleti, davvero, da tutto il mondo, e gli stessi sponsor che trovereste in un super slalom. Immaginate la mia gioia quando tornai a casa per annunciare ai miei genitori la mia vittoria internazionale. Mamma, ricordatevi che sono quello che non ha mai vinto nulla. Mamma, 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 sono campione del mondo di blogging. E mia madre, campione di che? Di blogging, ma? E che è? Come che è, mamma? Mamma, corro e raccolgo l'immondizia. Mia madre stava bevendo un bicchiere d'acqua, ok? Scoppiò a ridere, l'acqua la andò di traverso e stava quasi per soffocare. Così mio padre disse, se fosse serio, queste cose qua noi qui non le vogliamo sapere, ma ormai era fatta. Ad oggi, campionati a parte, sono ormai cinque anni che pratico il blogging e credo sia stata una delle cose migliori che siano mai capitate nella mia esistenza. E so che vi sembrerà un'affermazione assurda, ma vi posso assicurare che è davvero così. Questi ultimi cinque anni sono stati, che ne so, i più fortunati di sempre. Ma di nuovo fortunati è il termine sbagliato. Perché darebbe il merito alla fortuna, alla sorte, al destino, al fato. Mentre in questo caso il merito va solo a un paio di scarpe, a un sacco nero e a una valanga di rifiuti. In questi cinque anni, gli ultimi cinque, nonostante una crisi economica, una pandemia, una guerra, ho realizzato più cose che negli ultimi quindici. Tre serie tv, due film, un libro, due spettacoli teatrali. Ok, come diavolo è stato possibile? Perché qualcosa, in fondo, deve essere cambiato. E pensate, il segreto non è stato un libro. Sapevate che la sezione self-help è la più visitata di ogni libreria del mondo, pur aumentando la percentuale di persone che si dichiarano insoddisfatte della propria esistenza. Il segreto non è stato un guru, un workshop. Il segreto non è stata la fortuna. Il segreto, ladies and gentlemen, è stata l'immondizia. Quest'oggi io vi parlerò di una cosa molto strana che si chiama plugging. Ma vedrete, questo rimanga fra me e voi, che il plugging, alla fine dei conti, non c'entra poi nulla. Il plugging è solo un pretesto. O meglio, un indizio, stile Sherlock Holmes, che ci svelerà un segreto molto più grande, che ha cambiato terribilmente in meglio la mia vita e sono certo potrà farlo anche con la vostra. E allora che ne dite? Partiamo dal principio, perché io le chiamo le tre grandi lezioni del plugging. Ok. Ora, arrivati a questo punto, vi chiedo di partecipare con me ad un piccolo esperimento di immaginazione. Immaginatevi con un paio di scarpe da ginnastica ai piedi, un paio di guanti e un sacco nero, ok? Ora, immaginate di scendere per strada e di cominciare a correre. Vi trovate nel vostro quartiere. Attorno a voi stanno le strade che conoscete e stanno le case che avete sempre visto. All'interno delle case le persone che salutate ogni mattina e soprattutto, questa è la cosa importante, persone che vi conoscono. Voi scendete per strada e cominciate, correndo a fare una cosa particolarmente strana, raccogliete le bottigliette, le cartacce, c'è tutta l'immondizia che trovate. La mia domanda è qual è la sensazione che provate in quell'istante? Qual è l'emozione? C'è chi mi dice l'orgoglio. Sì? Sono pervaso dal senso civico. Buon per te. Ehi, come si vive su Marte, bello? Perché nel mio caso, invece, l'emozione ha solo un nome e si chiama imbarazzo e vergogna. La gente, vi giuro, vi guarda come foste un folle. C'è chi sorride, chi si mette a ridere, chi vi indica col dito. Voi vorreste schioccare le dita e scomparire come il genio di Alladin. Ma è proprio in quell'istante che questo assurdo sport chiamato plugging sta per consegnarci la sua prima grande lezione di vita. Lo fa in una maniera terribilmente brutale, ma allo stesso tempo terribilmente efficace. La lezione numero uno è la seguente. Se vuoi davvero arrivare da qualche parte, fregatene del giudizio degli altri. Questa è tosta, non trovate? Guardate, è impossibile. E vi posso assicurare, sono cinque anni che lo faccio, è impossibile raccogliere la bottiglietta se hai paura del giudizio della gente. Ma vedete, le cose possono andare ben oltre. È impossibile fare quello che davvero vogliamo fare evitando il giudizio degli altri. È impossibile essere quello che davvero vogliamo essere. Evitando il giudizio degli altri non è forse qualcosa che abbiamo già sperimentato nelle nostre vite, anche se non stavamo raccogliendo la bottiglietta per la strada. Quanta vita, non so voi, ma io lo so, quanta vita abbiamo sacrificato in nome del giudizio degli altri. e c'è la mamma, il papà, gli insegnanti, i mariti, i mogli, i fidanzati. Ora, avete un'idea, no? Avete un sogno, avete un'ambizione, e la gente comincia a sorridere, a ridere, e a indicarvi con il dito, così vi sentite ridicoli. E pur di far terminare questa tortura, decidete allora di fare la cosa più stupida di tutte, rinunciare alla vostra idea, al vostro sogno, alla vostra ambizione, pur di far terminare l'imbarazzo e la vergogna. Ecco, il blogging mi ha insegnato questo. Quando hai un sogno, gli altri scoppieranno sempre a ridere, punteranno sempre il dito, ma in cuor loro ti ammireranno. Se vuoi davvero arrivare da qualche parte, fregatene del giudizio degli altri e continua a correre. Ok, è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatto, ok? Avete guardato sorridendo il vostro vicino di casa, che vi squadrava come foste un malato di mente. Avete guardato torvi il gruppetto di ragazzini che ha scoppiato a ridere al vostro passaggio. Insomma, avete fatto vostra la prima grande lezione del blogging, ossia fregarvene del giudizio della gente. Così eccovi lì a correre con rinnovato entusiasmo. Ma le difficoltà, gente, non sono finite. Poche centinaia di metri, ed ecco un vecchietto vi saluta, levando in alto la mano tremante e vi facendo di avvicinarvi. Ti dovrebbero dare una medaglia, vi dice con lo sguardo bonario di un babbo natale nostrano. Così voi annuite in risposta, ma il suo monologo non è ancora finito. Perché c'è qualcosa che il vecchietto vuole dirvi a tutti i costi, no? Quasi a svelarvi un segreto del quale solo lui è a conoscenza. Si avvicina al vostro orecchio e sussurra. Scusa se te lo dico. Io ho visto che raccogli ed è una gran bella cosa, davvero. Ma senti, fidati di me. Non serve a niente. Domani ci saranno le stesse cartacce che hai raccolto oggi, se non di più. Ladies and gentlemen, il nostro vecchietto ha semplicemente, spudoratamente, vergognosamente ragione con 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici gettati in mare ogni anno a livello globale. La bottiglietta che avete raccolto è meno di una goccia in un oceano. Avete raccolto una bottiglietta. Domani ne avranno gettate a terra altre 10 mila. E non è un'esagerazione, è la verità. Quello che state facendo non serve a niente. Nada, nista, zero, nulla. Così la domanda è perché lo fate allora? Per quale ragione? Se tanto tutto è sempre inutile. Benvenuti alla seconda lezione del blogging. Perché, sapete, ci sono obiettivi e ci sono missioni. Ci sono obiettivi. Raccogliere la bottiglietta, ok. Ma ci sono anche missioni. Ripulire il mondo. Ci sono obiettivi. Spiegare l'ultima lezione di storia ai vostri ragazzi, se siete un insegnante. E ci sono missioni. Creare uomini e donne capaci di essere veri cittadini. Ci sono obiettivi. Preparare un risotto allo zafferano per il tavolo numero 5, se siete un cuoco. E ci sono missioni. Rendere le persone più felici attraverso i vostri piatti. La vostra missione è la vostra stella polare. Qualunque sia il vostro ruolo nel mondo. Ed è sempre un'utopia, capite? Ed è sempre irrealizzabile. Ma ha un vantaggio che i marinai conoscono fin dalla notte dei tempi. Non si muove mai. Non si spegne. Mai. Ed è la più luminosa del cielo. Gli altri si smarriscono in mezzo all'oceano, ma non voi. La vostra stella polare è là. Quella è la vostra missione. Non serve a niente, vi dice il vecchietto. Voi allora vi avvicinate a vostra volta al suo orecchio e sussurrate con un sorriso a fior di labbra. Lo so. E poi continuate a correre. Avete mai provato a correre per dodici chilometri con un sacco nero condominiale che si fa gradualmente sempre più pesante? Se mai un giorno deciderete di fare il plugging, questo è esattamente quello che vi troverete a fare. Ma vi invito adesso a considerare piuttosto la macabra, crudele, sadica metafora del plugging. Avete visto? Man mano che il traguardo si avvicina, il sacco nero non si fa più leggero. No signore, si farà sempre più pesante. Man mano che stiamo per raggiungere la nostra meta, il nostro obiettivo, il nostro sogno, la fatica aumenta e le difficoltà e gli imprevisti. Guardatevi attorno perché per la prima volta nella storia dell'umanità viviamo in una società dove viene celebrato il comfort, il vincere facile. Dove il successo equivale spesso a trovare il modo, la strategia, il trucco per avere tanto senza fare niente. dove il selfie più virale ha sempre a che fare con ristoranti, bei vestiti e viaggi. Ma grazie a Dio i social non sono la realtà. Potete prendere in giro i vostri followers, ma non voi stessi. Perché nella vita reale niente di valore si raggiunge senza un'immensa, devastante, a volte enorme dose di perseveranza e di coraggio. Perché a volte, ecco, la vita è come, non lo so, a me pare sia un pugile che continua a picchiare anche quando tu hai detto, ok, basta così, a buttarti K.O., a rilarti nelle orecchie, resta al tappeto, bello, resta al tappeto, ti conviene. Ecco, questa è la terza lezione del blogging. Impara la perseveranza. Non arriverai mai da nessuna parte senza fare tu alla certezza, la fede profonda che qualunque cosa succeda, anche la più brutta, anche quella che non ti saresti mai aspettato, tu continuerai a correre. Eccoci giunti alla fine di questo folle viaggio nell'assurdo mondo del blogging. Ma sapete, prima di salutarci, c'è una quarta e ultima lezione che questo strano sport mi ha insegnato. Ed è una lezione strana, perché vi ricordate l'inizio? Ci riporta all'inizio di tutto, quando dicevo che il blogging, alla fine dei conti, non c'entra niente. C'è qualcosa nel semplice, banale gesto di raccogliere una cartaccia da terra che è in sé una potenza disarmante. Perché, vedete, è qualcosa che non possiamo fare per noi stessi. Possiamo farlo solo per gli altri. Ecco la quarta lezione. La più sottile, quella apparentemente più difficile, ma anche quella più potente. Fallo per gli altri, non per te stesso. Fallo per gli altri e sarai inarrestabile. Fallo per gli altri. Quando facciamo qualcosa per gli altri, improvvisamente svanisce la paura, la fatica, la vergogna, l'incertezza. Quando siamo al servizio non di noi stessi, ma di qualcosa di più grande di noi, di più nobile di noi, ecco che tutto cambia, tutto diventa facile, tutto diventa chiaro. Grazie per aver partecipato a questa folle corsa, con un sacco nero sulle spalle. E grazie di cuore per aver prestato attenzione anche a questo strano ragionare di uno strano tipo che non ha mai vinto niente, ad eccezione di un titolo mondiale di indubbio valore. Ma soprattutto ricordate un paio di scarpe, il sacco nero, i rifiuti li trovate dovunque. E soprattutto ricordate la lezione più importante di tutte, qualunque cosa, ok? Qualunque cosa succeda, voi continuate a correre. Grazie di cuore, grazie mille. Marco, non andare via, Marco, non andare via. Siamo alla fine, di solito negli spettacoli teatrali, nelle performances, tu sei molto più esperto di noi, si fa il bis, no? In un qualche modo. Quindi, allora, ne approfittiamo, abbiamo qualche minuto di anticipo e se hai voglia di fare un piccolo bis, non so, qualcosa per il pubblico, quello che ti interessa a te. Avevo questo bel gioco finale, giusto, che mi piaceva condividere con voi perché, beh, non ci si può lasciare così, nel senso che, se ci pensate, no? Questo è il mondo del teatro, no? Questa è quella che chiamano la quarta parete. Teoricamente, no? Secondo Shakespeare, no, Shakespeare era un po' differente, ma per gran parte del teatro dell'Ottocento in poi. Qui c'è una parete, voi siete lì e noi siamo qua, e virtualmente i due mondi sono separati, invece non è così. Quindi, volevo condividere con voi un piccolo gioco, pensate. Secondo gli annali della pedagogia teatrale, è un gioco che viene dall'Asia, secondo alcuni sono addirittura stati gli indiani d'America, ma è un gioco che ha veramente a che fare col fuoco che arde e ci spingerà a scambiare il nostro fuoco che arde col nostro vicino di posto, ok? Quindi mi raccomando adesso tutti, oh mio Dio, era meglio se non venivo. Però vi posso assicurare, è molto divertente. E poi veramente qualcosa che ci carica. Allora, vi spiego esattamente come funziona. Sapevate che le mani sono piene di un sacco di, che ne so, centri nevralgici, sono meridiani, eccetera, eccetera. E allora il gioco, ve lo spiego, si comincia così, per circa dieci secondi dobbiamo strofinare le mani tra di loro. Aspetta, aspetta, ve lo spiego. Fino a quando diventeranno sostanzialmente bollenti, e sarà solo la prima volta, alla fine avremo delle ostioni di terzo grado. Dopodiché cosa faremo? Primo step, ci voltiamo verso i nostri vicini di posto, e quindi lo dovrete fare due volte, ad eccezione di chi è verso l'esterno, che avrà solo un vicino. E la prima cosa è la stretta di mano molto agente di vendita. Piacere. Dopodiché ricominciamo a strisciare per dieci secondi, diventeranno ancora più calde. Dopodiché c'è la stretta di mano, quella calorosa. Complimenti, complimenti. Il gioco praticamente è arrivato alla fine. Strisceremo per l'ultima volta, questa volta per venti secondi, quindi ancora più a lungo, e dopodiché con le mani realmente fuoco che arde, al nostro vicino di posto daremo un calorosissimo abbraccio e il nostro gioco finirà qui. Potremmo dire davvero che il fuoco che è nato qui su questo palco è che abbiamo cercato di regalarvi. Ce lo siamo trasmessi tutti quanti insieme a qualche virus. No, scherzo. Speriamo di no. Ok. Ok. Allora siete pronti? Ovviamente il gioco è totalmente libero, se non vi va di farlo. Oppure potete continuare a mantenere la stretta di mano. Che dite? Allora ci siete? Le mani sono queste e uniamo le mani. Dieci secondi e velocissimi. Uno, due, tre, quattro, cinque, ah, sei, sette, otto, nove, dieci. Stretta di mano, molto elegante, molto distaccata. Piacere. Ok, anche l'altro vicino, anche l'altro vicino. Bravissimi. E ora ritorniamo. Scusate, mi ero sbagliato prima. Questi sono venti secondi perché poi l'ultimo saranno trenta. E tre, e quattro, e mille cinque, mille sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Ok, grandissima stretta di mano. Ah, che piacere incontrarla, buon uomo. Ok, anche con l'altro vicino. Manteniamoci sempre su venti, che trenta non ce la faremo mai. E ok, ricominciamo a stringere l'ultima volta. Riscaldate bene le mani. Ora ci sarà poi il super abbraccio, quindi mille cinque e sei. Sette, otto, nove, dieci, undici. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ah, ok. Grazie di cuore! Grazie! Grazie!